E' ancora difficile da decifrare il Giarre 2016-2017. Ancora il vertice che dovrebbe definire assetti societari e tecnici non è avvenuto. Il patron Gianni Di Martino e il presidente Nicole Mura stanno sondando il terreno per vedere se è possibile allargare la base societaria con altri imprenditori e commercianti in modo da rendere la squadra più competitiva la prossima stagione in eccellenza. Aspetta segnali in questo senso il direttore sportivo, riconfermatissimo Pasquale Sanseverino che a propria volta spinge per la permanenza sulla panchina gialloblu di Carmelo Mancuso. Tutta la dirigenza considera Mancuso un maestro di calcio di cui non ci si vorrebbe privare anche perché in proiezione futura i giovani, specie quelli del territorio ionico dovranno avere un ruolo fondamentale nel progetto gialloblu e per questo serve una guida d'esperienza come Mancuso che li possa far crescere e maturare.